Segnatevi il nome e il cognome di questa donna, Lara Parker, redattrice di BuzzFeed, ha 26.000 follower su Instagram, è specializzata su un tema davvero molto 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 di nicchia atipico ed è il tema legato alla sua vagina. Infatti ha raccontato il suo dramma, non può fare l'amore, non può fare sesso perché la penetrazione, pensate che le va a provocare un dolore infinito, lancinante ma al tempo stesso sconvolgente. Non lo ha solo all'atto ma persiste diventando addirittura cronico. Pensate che un paio di anni fa ha provato la fanciulla ad uscire con dei ragazzi ma tutto è andato non bene ma molto male. Infatti non è facile spiegare agli uomini che non è capace, non è in grado di fare sesso e non c'è un modo per andare a rompere il ghiaccio, così avrebbe riferito la donna. Il problema è un disagio in mani forte e profondo quando esce con un ragazzo deve raccontare il suo problema e è disperata anche perché non sa come può prendere dall'altra parte il ragazzo il suo problema. Il problema si chiama, detto in tre nomi, è endometriosi, vaginismo e vulvodinea. Ciò comporta dei problemi a livello riproduttivo con dolori fortissimi che persistono per la povera donna in questione. Vi ringrazio per l'ascolto, dunque ripeto, iscrivetevi nel web questo nome Lara Parker perché troverete materiale in più. Un saluto, grazie, al prossimo video.